Canto terzo e quarto delle Dionesie che di nonno di Panopoli, la tensione si sposta da Tifone, dall'apocalisse tifonica dove Cadmo salva Zeus, all'epopea di Cadmo, eroe peregrinante, navigante, eroe della colonizzazione che da Oriente si sposta ad Occidente. Il canto terzo inizia ancora col segno del toro, il toro come costellazione ma come simbolo che indica secondo nonno di Panopoli, molto attento al linguaggio delle stelle, così importante per il mito, per il racconto degli dèi e degli eroi, che è il mito, il toro indica proprio lo Zeus, il rapitore di Europa, ma ricorda anche il monte Tauro in Cilicia, luogo del mito perché è in Cilicia che c'è la grotta di Tifone, in Cilicia passa per Seu, e il monte Tauro è uno dei monti infiammati dalla discesa di Fetonte, il figlio di Apollo, il figlio di Elios che non riesce a controllare il carro del sole, quindi è uno dei monti simbolici del mito, il Tauro. Sempre col segno del toro, segno di Dioniso, segno rituale, cultuale, Cadmo si sposta e dalla Cilicia attraverso l'Ellesponto arriva a Samotracia. Sì, perché ricordiamoci la promessa di Zeus di dare in sposa a Cadmo Armonia, la figlia di Ares Efesto, che è stata adottata da Eletra, quella che sarà la Pleiade, la settima Pleiade, Eletra, madre di Dardano, il fondatore di Troia, che regna in Samotracia. Non è solo un grande narratore Nonno di Panopoli, è anche un narratore molto attento agli aspetti spirituali, simbolici del mito, e se letto con attenzione rivela molte dimensioni misteriche, molte relazioni intessute fra episodi differenti del mito e che attraverso Nonno di Panopoli emergono più alla luce, pur rimanendo misteriosi e lontani dalla nostra mentalità, però emergono, si riescono a comprendere un po' di più. Questa è una delle grandezze di Nonno di Panopoli, l'ultimo è uno dei più grandi mitografi che ricapitola nel suo poema lunghissimo su Dioniso, ricapitola tutti i mitografi precedenti. Rispetto a Ovidio, l'esempio che lega le vicende di una ninfa, di una divinità, di un eroe fra loro, con voli pindarici, spesso così in modo anche con dei salti, in modo con dei protesti letterari, con delle finzioni narrative, Nonno sembra fare proprio un arabesco più fondato, con più senso. Certamente giocando sui tempi, per cui qui, ad esempio, Elettra non è ancora Pleiade, quindi Elettra stessa racconta a Cadmo che poi lei diventerà la settima Pleiade, con la sua catasterizzazione, con la sua trasformazione in stella. Chiaramente questo è un espediente letterario per far coincidere i tempi differenti del mito e dei suoi vari racconti, però, ad esempio, su Samotracia, sulla descrizione di Cadmo che entra in Samotracia ci rivela molto Nonno, perché innanzitutto mostra Elettra, figlia di Atlante, una delle Pleiade, quale regina sacra, un po' come la rete del regno dei Feaci, un po' come Medea presso la reggia di Eete in Colchide, e questa reggia assomiglia proprio a quella della Colchide, come assomiglia alla reggia di Eolo, come assomiglia a tutti i luoghi prodigiosi, sacrali, più misteriosi del mito, come anche le dimore di Circe e Calipso, è una reggia dove c'è un giardino che sembra edenico, dove sono presenti i fiori di tutti gli dèi, il giacinto di Apollo, la nemone di Afrodite, è presente anche il melograno e il fico, segno questo di Hermes e di Dioniso, ed è una reggia costruita da Efesto, quindi dove c'è anche il labirinto della danza di Knosso, questo ci ricorda gli antichi, i quali ritenevano che non ci fosse solo un labirinto, quello di Creta, ma era ricordato anche un labirinto in Egitto, a Mendre, e in un labirinto a Lemno, isola di Efesto, anch'essa misterica, e il labirinto di Samotracia. Questo vuol dire che siamo in presenza degli ultimi ricordi di una regalità sacra, dove l'elemento femminile è centrale, qui si parla solo di Eletra, in azione il re quasi non compare, viene citato fugacemente, è Eletra che parla con Cadmo, è Eletra che decide di dare armonia in sposa a Cadmo, quindi è una regalità femminile. E altri elementi misterici, rituali molto importanti che nonno ci ricorda, sono, ad esempio, gli elementi della musica, la musica dei Corribanti. Nonno mette in evidenza aspetti che io già avevo parallelamente evidenziato nel ricostruire gli aspetti sciamanici e misterici della guerra di Troia, cioè il nesso fortissimo fra Samotracia, con i suoi misteri, e il Monte Ida, anche anch'esso luogo sacrale, luogo del mito, luogo dove Zeus si unisce a Hera, dove Zeus ralpisce Ganimede, dove Hermes si unisce ad Afrodite e genera Amofrodito, e come ci sono dei misteri, dei riti afroditici, anche inferi, in Samotracia, così sul Monte Ida. La musica dei Corribanti, questi danzatori armati, questi danzatori di riti notturni, ricorda poi i Corribanti di Creta, dell'Ida di Creta, dove, secondo la tradizione, nasce Zeus. Quindi abbiamo un Cadmo che entra profeticamente, guidato da Afrodite, accompagnato da Peitò, la persuasione, una carite, una grazia, il nome anche di una sirena, una ninfa che appartiene al seguito di Afrodite, ed entra velato da una nube, come poi entrerà Hermes in Samotracia, e qui ricorda un po' Giasone, Giasone anch'esso è, anch'egli è accompagnato da Afrodite e incanta Medea, così Cadmo, accompagnato da Afrodite, con l'intervento poi anche di Hermes, incanterà sia Eletra che Armonia. Cadmo, quindi, è l'eroe di Afrodite e di Hermes, con forti tratti dionisiaci, il toro, il segno del toro, e il fatto che la sua sposa la trova a Samotracia, luogo di culti notturni e segreti. A chi assomiglia a Cadmo rispetto agli altri eroi, certamente quasi tutti gli eroi sono eroi che viaggiano, che peregrinano, nel quale la componente dell'esplorazione, del viaggio ai confini del mondo o in luoghi particolari è un elemento essenziale del percorso di ascesi e di identificazione eroica, di riconoscimento eroico per sé, o viaggia dagli Iperbori all'Etiopia. Giasone viaggia anch'esso in una spedizione fino ai confini del mondo, in un viaggio con forti componenti misteriche e sacrali. Però, rispetto all'esempio Odisseo, che viaggia, ma per tornare nella sua terra, qui Cadmo lascia definitivamente l'Oriente. Se c'è un eroe viaggiatore, civilizzatore, che assomiglia a Cadmo, quello è Diomede. Diomede è l'eroe troiano perché dopo la guerra di Troia viaggerà e civilizzerà, fonderà molte città lungo l'Adriatico, dall'Italia meridionale fino alle coste adriatiche dell'Italia settentrionale. Quindi Diomede è un eroe sia viaggiatore che civilizzatore. Altri eroi sono viaggiatori, ma non civilizzatori, come Perseo e Belerofonte, ad esempio. Quindi Hermes entra, viene ricevuto come ospite, appare in modo efebico, bello, aggraziato, fanciullo, come Hermes, come Dioniso. Viene accolto quindi per la sua bellezza, per queste sue doti che erano apprezzate anticamente, ed Elettra subito va in conversazione con lui e gli chiede la sua stirpe. Qui Cadmo racconta la sua stirpe, che è una stirpe estremamente prestigiosa, perché discende da Io, quindi è collegata con l'impresa di Io, guidata da Hermes e poi in tutto il mondo, dalla Scizia all'Egitto, e Io poi in Egitto ha come figlio Epafor, e discendente di Epafor sarà Belo, che equivale a Balaam, quindi una stirpe egiziana, e Belo va come figlio Agenor, il padre di Cadmo. Agenor è colui che fonda la Tebe Egizia, la Tebe delle Cento Porte, e Cadmo fonderà la Tebe Greca, la città di Eracle, Eracle Tebano. Quindi vediamo che c'è una corrispondenza non solo fra est e ovest, ma anche fra nord e sud, fra Egitto e Grecia, incrociata attraverso Cadmo e la sua stirpe. Non solo. Agenor è a sua volta un eroe sacrale e viaggiante, perché dall'Egitto si sposta in Assiria, in Fenicia. Infatti l'ultima localizzazione del clan di Cadmo sono proprio le coste di Sidone, di Tiro e Sidone, da dove Zeus, in forma di toro, rapisce Europa e da dove parte Cadmo, passando poi per la Cilicia e l'Esponto per giungere in Samotracia. Quindi una stirpe importante, che certamente non lascia indifferente elettra, ma poi l'intervento decisivo di Zeus ex machina è l'intervento di Hermes, un Hermes che scende dal cielo, un Hermes alato, che annunzia il decreto del destino, il decreto di Zeus, cioè che Cadmo, quale premio per aver salvato l'Olimpo e Zeus stesso, deve avere come sposa armonia. La figlia di Afrodite e Ares, e Ares e Afrodite sono proprio coloro, insieme con Artemide e Apollo, che dominano con i loro culti la Grecia, Nord Orientale, il Marneo e la Pelisa Anatolica. Quindi la collocazione è giusta. Ricordiamoci, ad esempio, Toante, il re dei Tauri, nell'Iffigenia in Tauride, che è considerato figlio di Dioniso e Arianna, ad esempio. Quindi questi erano i culti che dominavano Ares e anche il dio delle Amazzone, popolazione scitica. Quindi Hermes conferma questo e Elettra subito obbedisce e dà in sposa a Cadmo armonia. All'inizio, naturalmente, l'armonia è titubante, qui entra un elemento di commedia molto bello, per cui Afrodite assume la forma di una fanciulla della regge di Samotracia, che si finge innamorata di Cadmo, e poi colpisce, sfiora con la famosa cintura variopinta incantante di Afrodite stessa, sua, appunto, la stessa armonia, inducendogli così, in modo magico, incantatorio, la passione, l'ardore, l'eros, verso Cadmo. Cadmo viene descritto con un epiteto tipico di Hermes, Alexicaco, colui che scaccia i mali, viene descritto così da Hermes stesso ad armonia, per fargli capire l'importanza da parte dell'Olimpo di questa figura, di questo straniero, e il rabbondo, che quindi deve essere premiato e ci vuole la collaborazione di Elettra. Che, dicevamo, è lei la regina incontrastata, il re è in una posizione assolutamente subalterna, qua infatti è appena citato in Mazzoni di sfuggita, ma non ha nessun ruolo, e questo è mitograficamente molto interessante, significativo e importante dal punto di vista di nonno, che pur in epoca così tarda, dove tutto questo si era perso, conserva un ricordo ancestrale, antichissimo, della prima Grecia, della Grecia arcaica, dove l'elemento femminile, nei misteri soprattutto, era fondamentale. Hermes viene definito come Biosos, il vitale, colui che porta la vita, e quindi qual è il tema del convincimento? Non basta la nobile stire, perché serve quindi l'intervento di Hermes? Perché Cadmo è un eroe appunto particolare, un eroe viaggiatore, e quindi il dover sempre essere ospitato, certamente è una vita non facile, è una vita travagliata, certamente l'ospitalità era sacra, ma il non avere un regno stabile era visto dal punto di vista di Elettra, e soprattutto dal punto di vista di Armonia, come un minus, tant'è che, cosa straordinaria, Armonia viene data da Elettra in sposa a Cadmo senza dote, quindi Armonia deve partire, lasciare la sua patria, che per un antico è come morire, perché fuori dalla patria il cosmo diventa un luogo molto pericoloso, e come una specie di Abramo ante Litteram, Cadmo non sa dove andrà, e solo dopo fonderà Tebe, saprà che dall'oracolo di Delphi, e lo descrive nonno la scena, saprà che deve fondare una nuova città, ma anche qui assomiglia molto ad Ermes Cadmo, perché l'oracolo di Delphi gli spiega che avrà un'indicazione mantica nella scelta del luogo, non dovrà scegliere lui il luogo dove fondare la nuova città, che sarà la Tebe greca, il suo modello della Tebe egizia, città sacra, città dalle cento porte, città archetipo della stessa Sparta, ma sarà un bue, una vacca, che a un certo punto apparirà a Cadmo dopo che ha lasciato l'oracolo di Delphi, e lui dovrà seguirla, e quando questa bestia piegherà le ginocchia, lì dovrà fondare la città. Quindi l'elemento pastorale, e questo elemento del bue, chiaramente lo assomiglia, lo assimila ad Ermes, conduttore di io, in forma di mucca, di animale sacro, totemico. Su Cadmo è interessante anche cosa dice Afrodite, in apparenza di serva, di fanciulla, perché per convincere l'armonia della bellezza, del privilegio di sposare questo eroe, ricorda che viene dalla terra di Afrodite, che è appunto la Fenicia, da dove viene anche Adone, quindi è Cadmo quale nuovo Adone, e soprattutto Cadmo nel nome, che è un'etimologia non greca, non ancora conosciuta, non ancora spiegata, non inventa questa spiegazione etimologica, spirituale del nome Cadmo, associandolo, così quasi ebraicamente, per assonanza fonetica, sonora, alla parola Cadmilo. Il Cadmilo era una figura sacrale che apparteneva ai riti, ai misteri di Samotracia, pari a quelli di Eleusi, per importanza, se non di più all'inizio, e quindi Cadmilo, non sappiamo a quale divinità corrispondesse, se fosse un nome specifico di Samotracia, o molto probabilmente una figura di Mistagogo, di Irofante, degli stessi misteri, qualcuno dice che Cadmilo era uno dei quattro cabiri, gli altri erano Efesto, Erme stesso, Prometeo ed Eracle, ma al di là di questo è molto interessante questo accenno ai retroscena del mito che fa Nonno, associando appunto Cadmo prima a Dadone e poi alla figura del Cadmilo. Addirittura Cadmo viene avvicinato ad Ermes, un Ermes aptero, senza ali, quindi Ermes è a lato e Cadmo è un Ermes senza ali. E un altro aspetto interessante, più raro, affinato e misterioso, che rivela, in un tempo in cui non c'era più i segreti, in cui i misteri ormai erano stati abbandonati, perché l'Oriente Mediterraneo e Greco è ormai tutto cristiano, quindi può dirlo, ma lo sospettavamo già noi, con gli studiosi migliori, che i misteri di Samotracia, la grande madre di Samotracia, è Ecate. Ecate, che possiamo considerarlo o un epiteto di Artemide, o la forma di Artemide, Graves dice che Ecate, che la luna ha tre forme, la luna rossa, la luna piena e la luna nera, Ecate è la luna nera, la notte quando la luna si oscura, quindi l'aspetto più iniziatico e misterioso della notte, questa è la grande madre dei misteri di Samotracia. Beh, è un qualcosa che nessun mitografo antico avrebbe potuto, saputo o voluto dire, perché i misteri per definizione sono, si è tenuti a segreto su questo, e invece Nono di Panopolo, in quattro secoli dopo Cristo, può dire a beneficio della storia della cultura e della comprensione dello stesso mito. Cadmo quindi parte, lascia Samotracia a bordo di una nave dove in prua c'è Eros con le sue frecce e lui sta a timone, a poppa, con armonia, quindi una nave che anche qui assume contorni simbolici, rituali, come la nave Argo, e ricorda la nave con cui Paride scorta il suo trofeo sacro e vivente, Elena, in un viaggio per tutto Mediterraneo per poi giungere a Troia. Similmente qui abbiamo un Cadmo guidato da Eros che porta armonia. Sbarcono in Grecia, vanno, come dicevamo, ad Elfi, dove lui saprà qual è il suo destino, quello di fondare quella che sarà Tebe, la Tebe poi di Dioniso, la Tebe di Eracle, e della Sfinge. E quindi la sfonda in questo punto, ma ogni fondazione mitica è connessa ad un atto di eroismo, ad una prova di eroismo. Alle origini di Argo abbiamo la vittoria di Hermes, l'Argeifonte, l'uccisore di Argo, questo pastore guardiano che assomiglia i tratti anche del mostro, dell'essere prodigioso, alla base di Tebe, c'è l'uccisione di un drago. Il drago legato alla sorgente Dirce, Roberto Calasso, nella sua folia che viene dalle ninfe, tratta bene il rapporto fra serpente, drago e fonte. Nella lettera ebraica Samech, dell'alfabeto ebraico Samech, questa lettera ha più significati, nella sua forma grafica, nella meditazione sull'alfabeto mistico ebraico, per cui Samech, nella sua grafia, indica l'occhio come la sorgente, come il serpente, come il Messia. E qui abbiamo una spiritualità simile, seppur greca, perché quasi sempre alla sorgente c'è il genio Sloci, che è il serpente, quello che custodisce il tesoro, e come Giasone affronta un drago di Ares, che tutela, difende l'albero dove c'è il vello d'oro, in Colchide, sarà aiutato da Medea, qua invece deve combattere da solo, in modo guerresco ed eroico, Cadmo, per vincere questo drago e fondare Tebe, quindi sostituire a questo genio Sloci se stesso e gli dèi della propria stirpe. Un drago quindi legato ad una sorgente, avvolto addirittura in nove spire, questo l'idea delle nove spire ritornerà poi nel racconto del Parnaso, le cui fondamenta sono circondate da un drago, quindi un drago che assume anche una dimensione cosmica, come poi Virgilio parlerà dell'Ade come già dantescamente, come un cono degradante, come un coro del cielo al contrario, un imbuto che scende come nelle spire di un serpente. Sconfitto questo drago di Ares, viene compiuto un rito, un rito molto interessante, perché Cadmo stacca dei denti di questo drago e lo semina, e dissemina, questo gli era stato indicato dall'oracolo di Delphi, dall'oracolo di Apollo. Da questa seminagione rituale e misteriosa nascono gli spartiati, gli sparti, i seminati, cioè nascono dalla terra dei guerrieri, dopo tutto il drago e il drago di Ares, dei nuovi esseri, qui ricorda un po' il gesto di Deucalione che seminando le pietre fa rinascere gli uomini dopo il diluvio, diluvio che viene citato da nonno di Panopoli nella datazione di Dardano, figlio, dell'epoca di Dardano, figlio di Elettra, addirittura nonno ci parla di tre diluvi, qui abbiamo una dislocazione temporale di un ricordo differenziato in senso spaziale dal diluvio, noi ci ricordavamo del diluvio di Deucalione, lanciato da Zeus, deciso da Zeus per punire i titani dell'uccisione di Zagreo, di Dioniso Zagreo, qui vengono ricordati tre diluvi, piccola digressione a qualche pagina precedente, un diluvio tessalo, un diluvio subito dopo il quale c'è il tempo di Dardano e un diluvio che colpisce la frigia e la samotracia. Qui dicevamo questo gesto curioso della seminagione che fa nascere Sparta proprio, Sparta nasce da questi cinque esseri, da questi guerrieri che nascono dalla terra, che nascono dai semi del drago di Are seminati da Cadmo. Questi guerrieri vengono subito uccisi o si uccidono fra di loro, ne rimangono cinque che devono essere rispettati da Cadmo, da questi ci sarà la stirpe degli spartani. Infatti rimase sempre un rispetto sacrale di Sparta verso Tebe, ritornerà poi il discorso del battaglione sacro, della rocca Cadmea, quindi Tebe quale città sacra che nasconde anche i segreti di un determinato combattimento. Chi ricorda invece Cadmo mentre fonda una città arando il solco e mentre semina, quindi un Cadmo legato al bue, al toro e legato ad un'operazione che riguarda la terra, beh, ricorda altri figure, ricorda Osiride che anche lui è associato all'aratro, Giasone, una delle cui prove eroiche dopo avere, mentre sta per ottenere il vello d'oro è proprio quello di guidare nell'aratura un toro che sputa fuoco e poi lo stesso Odisseo che mentre Palamede lo vuole convincere a partire per Troia si finge pazzo e ara spargendo il sale. Quindi chiaramente sono tutti ricordi di un rito, beh, avremo poi Romolo e Remolo che arano per la fondazione di Roma, quindi all'interno di questi riti antichissimi c'era anche l'uso dell'aratro e un legame con la terra. Si conclude in questo modo il quarto canto con questa scena importantissima della fondazione di quello che sarà poi Tebe e della vittoria del drago e della sorgente. Grazie. 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 Grazie.